Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di ManuSport07 Siamo qui con il riassunto della tredicesima giornata di Serie A 2020-2021 Riassunto della giornata che come sempre vado a parlare di tutte le partite, vedo le mie opinioni E abbino l'analisi delle partite, per esempio l'abbino innanzitutto alla mia dislessia Perché analisi, l'ho appena detta analisi E alla simpatia che avete appena visto, perché io sono simpatica ragazzi Ringrazio il buon Antonio comunque per fornirmi le clip Ma noi non ci perdiamo in chiacchiere, partiamo subito, vamo ragazzi Allora, la prima partite che andiamo ad analizzare è l'Inter che fa la sua sesta vittoria di fila Dopo l'inizio del campionato un po' sotto autono, da quando non hanno più la Champions Ne hanno 24 di fila, a confermare la mia tesi che questi senza la Champions Vogliono proprio vincere lo scudetto e secondo me sono anche i favoriti, ma va bene Se di fila è un po' amaro, perché con lo spezza in casa l'Inter di solito tu ti aspetti che ne fa 3, ne fa 4 Invece vince solo 2-1, si becca anche il primo gol in Serie A di Roberto Piccoli Complimenti a lui, veramente un giocatore eccezionale Lo spezza che ultimamente sta facendo pochi punti, ma per quanto aveva dimostrato in precedenza E per la squadra che ha, che magari rispetto alle altre non è tanto forte Perché per esempio da spezza a Benevento, Benevento secondo me è più forte Parlo della qualità della rosa Spezza con 2 punti nelle ultime 5 partite Un po' amaretto 2 vittorie in 13 partite, però comunque sono più risultati utili 7 che le sconfitte 6, l'Inter invece rimane a meno 1 dal Milan Per quanto riguarda Benevento a Genoa Ecco, parlando di zona bassa della classifica Benevento dimostra di essere più forte del Genoa Benevento che fa 6 punti nelle ultime 5 partite Ottiene 5 risultati utili Negli ultime 6 partite, quindi veramente Molto molto bene Il Benevento Che batte il Genoa? Allora, magari il Genoa poteva trovarsi più sotto per qualche sfiga Perché magari non si trovava con l'allenatore Partita che è anche costata l'esonero a Rolando Maran Peraltro Poi non so voi, dipende quando vedete il video Sicuramente voi sarà già ufficiale la notizia Qua, quando sto registrando Mi dicono Cioè, mi dicono Non è che faccio parte di un sito, però Insomma Dalle indiscrezioni, oramai Sembra esonerato Maran Perché 7 punti in 13 partite Sono veramente pochissimi Pochissimi, pochissimi Il Benevento che si dimostra anche in campo Più forte del Genoa Perché ragazzi, il Benevento ha meritato anche di vincere questa partita Genoa che continua a fare schifo Ed è a meno Q5 dalla salvezza Per quanto riguarda la Sampdoria Invece la Sampdoria è a più 10 sulla diciottesima in classifica E buissa un po' alle porte dell'Europa È vero che la Sampdoria sono due vittorie di fila E prima di queste due vittorie di fila Avevo ottenuto appena tre vittorie in 11 partite Che sono comunque un po' pochini Non un pochissime, ma pochine Sampdoria con 17 punti in 13 partite Una media da ampia salvezza Anche se quest'anno non ci vuole chissà che cosa Perché il Torino che ne ha giocate 13 Che è diciottesimo Ha 7 punti ragazzi Non è che fa un punto a partita Quindi non è che è tanto facile Non è tanto difficile Sarà più 10 sulla salvezza Più che altro la Sampdoria bussa l'Europa Perché comunque si porta appena A meno 4 punti dal settimo posto Attualmente occupato da Atalanta e Lazio In compresenza L'Atalanta che però ha una partita in meno Quindi insomma Un pensierino forse nella Sampdoria ce la farei Magari devono spingere un po' di più per l'Europa Perché i giocatori ce li hanno Da Amsgard l'abbiamo visto tutti Di che pasta è Per quanto riguarda la Fiorentina Astinenza di vittorie Astinenza di vittorie per la Fiorentina Perché? Perché veramente non vincono da una vita Ormai Iachini secondo me è sulla graticola 3 pareggi negli ultimi 4 partite Ma da quando è arrivato non ne ha vinta una ragazzi Per la Fiorentina due vittorie in 13 partite Io l'ho detto fin dall'inizio ragazzi L'ho detto fin dall'inizio Iachini non andava esonerato Iachini aveva bisogno sicuramente di più tempo Perché la Fiorentina l'anno scorso era stata una delle squadre più colpite Dall'emergenza coronavirus Che comunque è tuttora in Italia Tacci sua mannaccia Tacci sul copo Perché alla fine sono gli italiani Che lo fanno venire Vabbè Però Astinenza di vittorie per la Fiorentina Che continua a non vincere Ok che il Verona non era il più semplice degli avversari Ma io non posso accettare Che una squadra qualitativamente fortissima Perché qualitativamente fortissima Come la Fiorentina Debba avere due vittorie in 13 partite Non è una cosa veramente accettabile E vabbè Vediamo come si guardano Per contro il guardo invece il Napoli Napoli che soffre i big match È la seconda scompitta consecutiva Dopo quella con l'Inter Per il Napoli di un big match Ha perso anche con la Juve Però quella a tavolino Hanno perso con la Lazio Cioè praticamente vanno a perdere questi Tutti i big match Forse l'unico che hanno vinto è con la Roma Che è la Roma praticamente Il suo stesso problema del Napoli Che perde tutti i big match L'abbiamo visto in questa giornata Ne parleremo dopo Napoli con emergenza in attacco Altro che emergenza coronavirus Fuori Lozano Fuori Gliorente Fuori Osiman Fuori Mertens Quindi insomma Veramente in Come si dice Veramente in crisi Di giocatori Eppure il Napoli Ha fatto una rosa Bella bella lunga Però quando c'è tutti questi infortuni Tutti in un reparto La vita non è affatto semplice Ora spazio a Politano A Petagna A quelli che comunque Rimangono Anche se in un momento Si tornerà con il centrocampo a tre Ed ecco Per l'idea Devo rispuntare le corna La prossima partita che andiamo ad analizzare È Atalanta-Roma Partita che ha visto vincere l'Atalanta In rimonta Per altro 4-1 Sembra essere tornata La vera idea Anche senza il Papu Gomez In una toglione dal Papu Gomez Però l'Atalanta Ha perso solamente una Delle ultime cinque partite Due vittorie Nelle ultime tre Comunque Hanno la media Di oltre due gol a partita La media Anche più che altro Non ha una difesa Ancora peggio Di quella dell'anno scorso Seppur Si sono abbastanza rinforzati Con Romero Poi hanno degli ottimi giovani Come Sutalo Hanno Caldara Quindi insomma Non so perché La difesa Da tutti questi problemi Forse deve essere Un problema di gioco Di Gasperini Che ovviamente È l'ultimo da criticare A rendere una squadra Da salvezza Una squadra Che per due anni consecutivi Va agli ottavi dai Champions Quindi veramente Gran lavoro di Gasperini In male è la Roma Che continua a perdere Tutti i big match Cioè la Roma vince tutti Sottolineo tutti I match che non sono big match Però perde o pareggia Quelli che sono big match Cioè è veramente incredibile La Roma Che comunque non è stato tutto È quarta la Roma In attesa proprio Del risultato dell'Atalanta Con l'Udinese Però la Roma è quarta A meno tre Dalla Juventus E a meno sette Dal Milan Non credo se la posso giocare Per lo scudetto Però momentaneamente È in Champions League E se la può ampiamente giocare Per la Champions League Dopo due stagioni Di assenza Cagliari-Udinese 1-1 È così facile la salvezza Sono due partite di fila Che Cagliari-Udinese Pareggiano Cioè Secondo pareggio consolutivo Per il Cagliari Secondo pareggio consolutivo Per l'Udinese Si accontentano di un punto a testa Perché questa no La salvezza Sta diventando veramente noiosa Ormai Gemma Torino e Crotone Soprattutto quest'ultima Sono Con più Di un piede In Praticamente Serie B Perché Comunque Le squadre avanti Sono un po' troppo avanti Per farvi capire L'Udinese È undicesima A più 8 Il Cagliari È tredicesima A più 7 E insomma Quel più 7 Poteva essere un più 9 Un più 10 Poteva anche essere di meno Se questi pareggi Le andavano a perdere Però Accontentarsi Non so se è esattamente La scelta giusta Anche perché Si rende noiosa La Serie A Siamo anni luce dietro A me modo di vedere Rispetto alla Premier League Poi non lo so Ultimamente abbiamo un po' Ripitalizzato il campionato Però questi pareggi Proprio Lo fanno Morire Perché sembra che Come se le squadre Una volta che stanno a pareggiare Dicono Stiamo a cercare Non lo so Io non voglio dire Che si sono messi d'accordo Però Mi danno come l'impressione Che la squadra Quando pareggia E mancano pochi minuti Dicono Stiamo a cercare E questo me lo hanno detto Tifosi stessi Di Udinese Cagliari Quei pochi che conosco Ragazzi Andando ad analizzare Invece la capolista Delle capoliste Ovvero il Milan Allora Il Milan Sono 15 partite consecutivi In Serie A Che fa almeno 2 gol Se andate a vedere Questo campionato Ha segnato sempre Tutelino Sempre 2 gol Tranne in 3 partite Che di gol Ne hanno fatti 3 Quindi insomma Veramente bene il Milan Che bene o male Segnano a giro Un po' tutti A sto giro Ha segnato Leao E meno male Perché ce l'ho Al fantacalcio Milan comunque Uno dei migliori attacchi Della Serie A 29 gol fatti Anche se La migliore differenza A reti Ce l'abbiamo noi La Juventus Non abbiamo perso Manco una Proprio come i rossonieri Non vedo l'ora Che arrivi il 6 gennaio Così magari ne perdono una Speriamo all'anima di Dio Perché sennò Me la sono gufata Poi ve la prendete con me Va bene Comunque Leao Che segna il gol più veloce Della storia di Serie A Battendo non di poco Lo scorso Lo scorso era di 8,6 secondi Leao ha segnato dopo 6,011 secondi Quindi veramente Incredibile Il gran lavoro di Ciananoglu Che a furia di prendere pali Traversa I gol annullati È diventato lo sfiga Mene della Serie A Andando a sostituire Il vecchio tronista Che era Alvaro Morata Milan che si conferma Capolista dopo due pareggi E ci mancherebbe Che dopo due facevano pure il terzo Meno male per loro E speriamo per loro Un qualche passo falso Così magari andiamo a recuperare E comunque Noto che sono sportivo Complimenti a Milan Andando a analizzare invece La prossima partita Fettina di cul Scritto con lo zero Per il Torino Nel senso Cioè allora Bene o male Loro vanno in vantaggio Si fanno sempre rimontare Incredibile Vedendo un po' la partita Perché ne ho vista a poco Hanno anche una sfiga disumana Questo c'è da dirlo È noto che i calciatori Vedendo magari un po' il nervosismo Che aveva anche Gian Paolo in panchina I giocatori non sono proprio quelli Per Gian Paolo Magari noi lo prendiamo in giro Il maestro maestro Ma scordiamo che il maestro Con Empoli e Sampdori Ha fatto veramente veramente bene Con il suo modulo Gli hanno costruito la squadra Che era per lui Gliel'avevano costruita Per metà pure al Milan Ma ha fatto cagare lì Non è la natura da big match Però per il Torino Dovrebbe andare abbastanza bene Gian Paolo Non capisco Perché Continua non sempre a vincere Una vittoria in 13 partite Veramente poca Eppure il Torino Uno dei Buon attacco 21 gol Di cui 9 di Belotti Però insomma Non li sto vedendo talmente male Comunque complimenti al Bologna Che dimostra di avere Tanta tanta anima Anche se qualitativamente Ha perso rispetto Lo scorso anno Detto questo ragazzi Il video termina qui Spero che il video Vi sia piaciuto Se ti è piaciuto Ti invito a lasciare un mi piace Cosa contraria Un dislike Commenta se siete d'accordo O risaccordo con me Se non è ancora fatto Iscrivete al canale In descrizione il link Per seguirmi su Instagram Ringrazio il buon Antonio Per le clip Per chi mi va da design Demonusport 07 è tutto E noi ci vediamo In un prossimo video Bella ragazzi E noi ci vediamo